A commencement day siamo con Francesca Volantè che ci racconta la sua esperienza di studenti a Saliuk. Ciao a tutti, io mi sono laureata alla specialistica in International Business Management in Economia e durante la specialistica ho trascorso un semestre di studi in Erasmus all'estero ad Amsterdam. Durante questo semestre ho appunto conseguito determinati esami ovviamente in lingua inglese che una volta rientrata in Italia mi hanno poi aiutata anche a proseguire gli studi italiani ma comunque essendo in lingua inglese diciamo che il fatto di aver studiato all'estero e aver dato degli esami all'estero mi hanno sicuramente aiutata poi quando sono una volta rientrata in Italia. Oggi dove sei? Oggi lavoro in Accenture a Milano, sono entrata dopo i classici sei mesi di stage mi hanno diciamo appena finito allo stage mi hanno assunta quindi non mi hanno lasciato neanche un giorno di pausa, di vacanza, di relax. Adesso sono assunta a tempo indeterminato appunto in Accenture lavoro nel settore digital quindi mi occupo di digital marketing, e-commerce, soluzioni, applicazioni, soluzioni diciamo molto digital. Quindi le competenze da un lato e le opportunità comunque di studiare fuori e di incontrare comunità internazionali ti sono servite per entrare di nuovo in questo contesto di interesse. Esatto, anche perché grazie comunque all'internalizzazione che ho ricevuto tramite la LUC ho avuto l'opportunità anche di andare in trasferte all'estero, tramite Accenture, fare dei training presso il cliente quindi anche conoscere la lingua inglese a un livello abbastanza alto sicuramente è decisivo quando si lavora in realtà così grandi, così internazionali. Quindi bocca al lupo per tutto il lavoro che farai e il buon commerce mondiale. Grazie. Grazie.